Ciao ragazzi, ormai ero mia e compaglia, siamo a Leoben oggi, guardate anche questa è la piazza principale Aspetta, vedrà in grandi scuole Dopo vi aggiungo poi tutti i video man mano che ho fatto Perché dovete sapere che io durante questa giornata ho già fatto dei video Dove riesco anche un po' a vivermi in momento, non è che faccio proprio l'influencer attaccare dei poveri Fai bene, fai bene Attacca Comandati? Allora, a parte vi aggiungo la foto di questa bellissima nostra brunch con i bagels, molto molto buoni La cattedrale, vi aggiungo anche poi il video dell'interno E potete notare una cosa molto carina che lì sopra, ve lo ingrandisco, c'è un omino che suona la campana E non è solo, lì c'è una bambina che sta tipo, non so, giocando con la ballina o qualcosa E ora ci stiamo dirigendo verso il più grande, no, il bar più lungo d'Europa Il bar più lungo d'Europa Bene, di qua Ok, e mentre prima siamo andate alla biblioteca Università di Leoben Quindi dico, il biglietto costa 2 euro, direi carina E devo dire, la città mi consiglio di venire nel weekend, perché ci sta lo sconto Ovviamente se hai fatto dei treni, almeno da Bruxelles abbiamo pagato tipo 7,40 anni di ritorno Quindi top top A tra poco Amici siamo arrivati in questa via col bar più lungo d'Europa Però questo, insomma, bene Ora, alla prossima Il blog continua, quindi allora vi aggiungo il video di dove stiamo prima Il posto che vi metto la foto o il nome, perché è impronunciabile personalmente Però molto carino, mi ricorda anzi il paese delle fiabbe, devo dire, apprezzato Dai un commento a freddo su questa città, ti piace? Molto carina A misura d'uomo Consigliata, consigliata Ah, comunque vi devo dire, non fate solo ora che tipo il birrificio della Stella Artois E si deve provare E noi non lo sapevamo Quindi niente, non siamo potuti andare a fare Però comunque stiamo cercando un posto per andare a via la Stella Artois Perché è proprio di qui Quindi vi aggiorniamo e ci riusciamo A dopo Amici siamo in treno Abbiamo preso anche la nostra birra, vi aggiungo la foto Qua sono le ragazze Bello Raga, un commento a freddo, mi è piaciuta quindi Dai, si sta Sì, l'ho provato, vabbè Non so che gioco la scosta Siamo al prossimo video Ciao